Leo Sutera voleva scappare dalla Sicilia, avrebbe voluto volentieri raggiungere l'Ungheria insieme alla moglie e sicuramente questo uno degli aspetti più interessanti del provvedimento della direzione distrettuale antimafia di Palermo culminato col fermo di ieri mattina del capomandamento di Sambuca di Sicilia e boss della mafia grigentina. C'è solo Leo a tutta Grigento, dicevano di lui i suoi amici, stando alle intercettazioni utilizzate dai magistrati Paolo Guido, Claudio Camilleri, Callogero Ferrare, Alessia Sinatra. Ed è del 2017 l'intercettazione è considerata decisiva quella che ha fatto scattare il fermo. Appena finisce questa storia, diceva Leo Sutera, me ne vado pure io, in Ungheria ci sono persone serie, compro una casa, vado a stare con mia moglie e mia moglie, con la pensione, tutti e due in pensione, ti saluto. Era andato a Palermo Leo Sutera per comprare di persona un rilevatore di microspie perché sapeva benissimo il boss di essere sotto attenzione da parte degli investigatori, temeva sempre possibili intercettazioni, organizzava i suoi incontri riservati in aperta campagna, ad orari impossibili nel tentativo di sfuggire a microfoni, telecamere, obiettivi fotografici. L'ultima serie di guai nei confronti di Leo Sutera è scattata quando Vito Bucceri, capo mafia di Menfi, è diventato uno degli ultimi collaboratori di giustizia, raccontando ai magistrati segreti della cosa nostra grigentina e parlando anche di Leo Sutera, di come questi fosse un punto di riferimento per la zona, di come sostanzialmente si dovesse passare attraverso di lui per qualsiasi cosa che riguardasse appalti, lavori pubblici e privati. Sutera che naturalmente aveva nel cuore la sua Sambuca di Sicilia ed è in tale direzione che la DDA rivela nel suo provvedimento che Euprofessuri, così come viene chiamato per essere stato docente di educazione fisica, aveva deciso di interessarsi degli affari che sarebbero scaturiti da alcuni importanti interventi di costruzione e ristrutturazione, tra cui quelli riguardanti un villaggio turistico diventato appetibile soprattutto dopo la proclamazione di Borgo dei Borghi di Sambuca di Sicilia nell'ambito di un concorso televisivo che ha sicuramente lanciato l'immagine turistica di un intero territorio. Per il resto lo sfondo è quello di sempre, le estorsioni, l'obbligo imposto alle ditte appaltatrici dei lavori da approvvigionarsi presso le imprese compiacenti, assunzione subappalti ma anche la strada sbarrata, come rivelato in un caso, ad un'impresa diversa da quelle che lui avrebbe deciso di privilegiare. Una vita borderline, quella di Leo Sutera, un professore era sempre particolarmente attento a spostamenti e appuntamenti nel timore, come detto, di venire intercettato. Da qui il ricorso ai pizzini, ai contatti col suo amico di sempre, amico personale Matteo Messina Denaro, contatti che, secondo gli inquirenti, avvenivano in maniera antica. Un arresto, quello di Leo Sutera, che sulla base delle accuse e delle indagini ribadisce la centralità di un territorio, quello agrigentino, all'interno delle dinamiche di Cosa Nostra, che probabilmente adesso sarà chiamata a riorganizzarsi. Personaggio di assoluto rilievo per Cosa Nostra Agrigentina, assolutamente scaltro e capace di muoversi in maniera veramente molto accorta.